Guarda, il ruolo del CFO si è trasformato nel corso degli anni. Questa trasformazione è stata, diciamo così, comandata e guidata dall'evoluzione tecnologica che abbiamo visto in quest'ultimo decennio. La rivoluzione digitale, la grande disponibilità dei dati che le nuove tecnologie rendono disponibili hanno consentito ai business di generare nuove modalità di accedere a nuovi clienti, a nuovi mercati e trasformando anche l'intera catena o quella che noi chiamiamo la supply chain o la filiera logistica e di produzione delle aziende stesse. Vediamo aziende che si trasformano da produttori a retailer, da retailer a brand, retailer che diventano brand stessi e brand stessi che diventano a loro volta anche ancora di nuovo dei prodotti o dei original equipment manufacturer. Queste trasformazioni portano il focus del CFO da quello che era una volta l'attenzione all'efficienza operativa, la produttività, all'agilità, cercare di trovare modi di supportare il business e trovare il sostentamento finanziario ed economico a nuovi modi completamente diversi da quelli tradizionali del business degli anni 90 o dei primi anni 2000.